Ciao benvenuto nel canale Juventus Oggi, canale incentrato, porta notizie dalla Juve, prima delle notizie, ti chiedo di iscriverti al canale per non perderti niente della Juve. Allegri al momento la sua posizione sembra equilibrata, ma un possibile passo falso di domenica contro il Monza potrebbe cambiare completamente lo scenario. Non sono giornate facili per Massimiliano Allegri, che, dopo il KO della Juventus contro il Benfica, è finito al centro dell'attenzione dei tifosi bianconeri. Uniti in coro unanime nel chiedere le sue dimissioni, anche i media ragionevolmente sta facendo le sue riflessioni, con la consapevolezza del brutto momento della Juventus. L'allenatore è legato al club bianconero da un contratto importante, quadriennale 7 milioni di euro a stagione. Firmato a maggio 2021, i tifosi non continuano a chiedere un cambio di rotta, alla Juventus con i social letteralmente invasi dall'hashtag cancelletto Allegri Out e dai nomi dei loro possibili sostituti. Vedi i cinque nomi possibili per sostituire Allegri. Nome. Zinedine Zidane. Secondo. Roberto De Zerbi. Senza dimenticare il grande ex Antonio Conte, forse la pelle contorta della Juventus più desiderata insieme ad un altro storico protagonista degli anni d'oro della Juventus. Paolo Montero. Attualmente in banca presso Primavera, che proprio per questo potrebbe rappresentare un Allegri pronto a sostituire. Ebbene cosa ne pensate di questi nomi? Quale sarebbe meglio sostituire Allegri? Lascia la tua opinione nei commenti. A mio parere preferisco Zinedine Zidane. Bene è solo la mia opinione. Ciao al prossimo video.